Ciao a tutti sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio subito aggiornarvi con quello che è successo in queste ore perché il mondo cripto si sta riprendendo fortunatamente i prezzi sono ritornati ad un livello abbastanza importante in questo video voglio spiegarvi perché questo sta accadendo e cosa possiamo aspettarci nel video di ieri vi ho anticipato che avremmo visto una piccola ripresa dei prezzi nel momento in cui ci sarebbe stato un incontro positivo tra Russia e Ucraina per adesso questo non è successo però ci sono stati altri catalizzatori che hanno permesso il rally dei prezzi in questo video ripeto che ne parliamo per ora bitcoin è sui 43 mila dollari ieri circa abbiamo raggiunto anche 44 mila dollari ethereum è vicino di nuovo ai 3 mila dollari e vediamo percentuali assurde con un più 14% nelle ultime 24 ore un più 11% lo stesso vale anche per le altre altcoin se volevo soprattutto parlarvi di terra luna ragazzi perché ha raggiunto il livello numero 7 con un più 22% nelle ultime 24 ore un più 80% quasi negli ultimi 7 giorni ed è incredibile fatemi sapere nei commenti se volete un video in cui parlo di luna e quali potrebbero essere incentivi ad investirci vediamo anche cardano che sta performando bene lo stesso solana avalanche eccetera anche le meme coin stanno registrando percentuali positive soprattutto kronos con cro che si attesta intorno agli 0.44 centesimi di dollaro e chi è entrato nel progetto tramite il mio link bonus che trovate qui in basso in descrizione è riuscito ad accumulare tanti cro e già fatto delle percentuali interessanti anche con soli 25 dollari eccetera detto questo adesso iniziamo perché voglio subito mostrarvi questo grafico davvero interessante di bitcoin questo grafico è quello delle 4 ore btc usd ovviamente e soprattutto lo sto confrontando con us 10 years che sarebbero i titoli di interesse a 10 anni degli stati uniti d'america di solito quando questo grafico qui sotto in arancione questa linea sale anche bitcoin sale però in questo caso invece ragazzi tengo a precisare che ciò non è accaduto perché vediamo bitcoin con questi bei pump verso l'alto e questo tasso di interesse che è sceso e questo significa che le persone tendono ad investire in asset a rischio come ad esempio bitcoin e il mercato azionario vediamo quindi bitcoin che è passato all'incirca da 37 mila dollari il 27 febbraio e oggi che è primo marzo siamo arrivati addirittura a 44 mila dollari con quest'ombra qui quindi ragazzi questo significa che il mercato sta reagendo per vari motivi ripeto che l'incontro tra russia ucraina e bielorussia non ha portato nessun beneficio ai mercati perché non c'è stato ancora nessun accordo però sono avvenuti alcuni fatti in russia che hanno permesso questo pump perché il pump è iniziato alle 15 ore italiane che sarebbe quando ha aperto il mercato in america cioè alle ore 9 di mattina cosa è successo in russia in russia sono stati vietati i pagamenti all'estero quindi le persone tramite le valute fiat che possono essere in questo caso il rublo eccetera non potevano più inviare il rublo all'estero in europa e per questo cosa hanno fatto le persone in russia giustamente hanno adottato le criptovalute quindi le cripto sono utilizzate come metodo di scambio poiché le valute fiat le valute tradizionali sono state bloccate bitcoin ethereum e tutte le altre altcoins vengono acquistate in massa dai russi per poi essere utilizzate come sia bene di rifugio sia moneta di scambio poiché ripeto che non possono più utilizzare le valute fiat quindi da un punto di vista per le cripto è molto ma molto positivo a patto che queste cripto non vengono regolamentate da parte dell'europa contro la russia infatti uno scenario possibile di cui ho parlato ieri è che le cripto vengano regolamentate da parte dell'europa per fare altri torti economici alla russia però attenzione perché è stato chiesto ai vari exchange come ad esempio kucoin, binance eccetera di bloccare i fondi russi e i vari exchange hanno risposto in modo negativo dicendo che non possono fare questo perché non è giusto per i russi che vedono le criptovalute come mezzo di scambio ecco qui ragazzi come ho detto ieri il ministro ucraino ha cercato di bloccare gli exchange in russia però gli exchange finora si sono rifiutati di farlo infatti coinbase ha dichiarato che non istituirà un divieto generale su tutte le transazioni coinbase che coinvolgono indirizzi russi questa è una notizia positiva perché vediamo binance, ftx, kucoin e tutti gli altri exchange operare lo stesso in russia perché comunque già vi ho detto in questi giorni che i vari exchange e le varie criptovalute sono state importanti sia per donare fondi all'ucraina che aiutare i russi perché già vi ho detto che le valute fiat sono state bloccate quindi queste povere persone non possono più mettere i loro soldi in valute fiat e stanno scegliendo in questo caso le cripto ah cosa importantissima ero quasi dimenticato lasciate un bel mi piace a questo video perché è importantissimo ragazzi queste notizie sono time sensitive prima le siete a conoscenza e meglio è e soprattutto se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che è pubblico iscrivetevi assolutamente al canale perché appena posso vi aggiorno sempre comunque un'altra cosa, un'altra supposizione è che alcuni speculatori abbiano comprato bitcoin e tutte le altre cripto quando i prezzi erano bassi in questi giorni perché già ieri ad esempio eravamo sui 38.000, 37.000 dollari addirittura siamo scesi anche sui 36.000 dollari quindi che hanno fatto questi speculatori che posseguono tanti fondi hanno anticipato queste mosse dei russi pensando che giustamente vedendo le valute fiat bloccate i russi sono costretti ad acquistare cripto per inviare fondi quindi gli speculatori hanno deciso di acquistare in massa bitcoin eccetera e per questo i prezzi stanno aumentando ovviamente sono supposizioni ragazzi vediamo un po' che succede e se riuscissimo a rompere realmente il livello dei 45.000 dollari per bitcoin sarebbe molto positivo perché il prezzo potrebbe riprendersi del tutto e avere un rally molto molto importante vediamo un po' che succede in questi giorni e come al solito io vi aggiorno sempre passiamo ad alcuni tweet interessanti perché Vito Loops scrive su Twitter è singolare come bitcoin pensato come strumento di pace per impedire i governi di stampare senza fine e finanziare guerre stia unendo cittadini di Ucraina che ricevono donazioni perché vi ripeto che Ucraina ha ricevuto più di 30 milioni di dollari in bitcoin ed ether ne ho parlato ieri e soprattutto stia unendo anche la Russia che bypassa i ban della banca centrale per trasferire e ricevere soldi all'estero perché per chi non lo sapesse la Russia è stata esclusa dallo SWIFT detto questo adesso continuiamo perché la banca centrale russa riporta che a causa della situazione attuale ha deciso di non riprendere le negoziazioni nella giornata di domani quindi anche oggi ragazzi i mercati russi saranno chiusi e le azioni stanno crollando e per questo è tipo una tutela che stanno adottando per non far sì che la situazione peggiore ancora di più un'altra notizia che riguarda il calcio FIFA e UEFA sospendono la Russia da tutte le competizioni internazionali quindi la Russia non parteciperà ai mondiali di calcio questo denota quanto siano gravi le sanzioni verso la Russia anche se ovviamente il calcio non è importante però partecipare ai mondiali è anche bello per il paese e purtroppo sono sempre le persone che non c'entrano nulla ad avere la peggio per quanto riguarda il Fear and Greed Index ragazzi siamo al numero 51 e anche stamattina tramite Instagram ve l'ho detto per questo è importante seguirmi su Instagram perché spesso faccio anche dei riassunti so che non tutti possono guardare ogni giorno un mio video per questo ho fatto un piccolo riassunto di quello che ho detto e soprattutto vi aggiorno anche 24 ore su 24 su tutto quello che succede nel mondo cripto con un mio piccolo pensiero a riguardo e per questo vi invito a seguirmi mi trovate come Stefano Castiello attenzione perché il mio profilo vero è privato mi chiamo Stefano Castiello nel mio nome utente non c'è nessun numero nessuna lettera in meno inviatemi la richiesta al profilo privato non appena posso ve l'accetto il profilo pubblico non è il mio mi è stato copiato da una persona molto cattiva che contatti i miei iscritti per farli investire in CD Scam in questo momento ci troviamo nella Bitcoin Season infatti anche qui è scritto It's Bitcoin Season e questo è positivo perché diciamo le persone riversano i propri soldi in Bitcoin e quando Bitcoin sale di solito anche tutti gli altcoins salgono non tutti ragazzi attenzione perché ci sono anche alcuni nomi in negativo e attenzione ai progetti meno capitalizzati che potrebbero fallire ah cosa importante perché in molti mi dite Stefano un piano d'accumulo dove posso farlo? io vi dico sempre scegliete Young Platform che è un exchange italiano permette di investire una somma ogni mese in un salvadanaio anche io lo faccio e ho fatto molto bene e tramite il mio link avete anche accesso all'academy che permette di studiare le criptovalute, la blockchain eccetera e soprattutto avete anche un bonus di 10 euro se depositate 50 euro minimo un'altra notizia importante è che il CEO di Ebay afferma che l'azienda sta perfondamente considerando l'aggiunta dei pagamenti in criptovalute tramite Ebay quindi ragazzi su Ebay potremmo pagare tramite cripto è una notizia super bullish per il mondo cripto in generale e tenevo tanto a dirvela detto questo grazie mille a tutti per la visione di questo video noi ci vediamo domani con la prossima avventura se realmente vi è piaciuto e vi è sembrato utile lasciate un bel mi piace per supportarmi e se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 ripeto su tutto quello che pubblico è importante iscriversi perché queste notizie sono time sensitive prima ne siete a conoscenza e meglio è a domani ciao